Signori nuovo in villa dei Debo... Ciao, ciao ragazzi, ciao Oddio, è... Ma perché in questa villa ci denudiamo sempre? Non lo so, però mi piace tantissimo Perfetto, non ne voglio sapere Comunque ragazzi, oggi andiamo a fare un video C'è Ferro di sopra che sta registrando nella mia postazione Siamo nella postazione di Debo perché giustamente la mia non è ancora preparata Ma oggi ti estremo una cosa Dovrebbero aver depotenziato le auto Ottima cosa Ma attenzione, attenzione Non lo sappiamo perché giustamente dobbiamo testarlo Quindi oggi proveremo a fare l'auto più indistruttibile di sempre Anche se appunto potrebbero essere fatte le potenziate Meglio, fidatevi, molto meglio Perché la sua non è ancora riuscita a montarla Abbiamo avuto dei problemi, come vedete qua Stiamo montando tutto quanto E siamo un po' in ritardo, è arrivata la connessione di ritardo E oggi, dato che il mio computer è uno dei pochi Che ha la connessione L'altro è quello di Powa che però come vedete è ancora in fase di montaggio Direi che è il momento di fargli uno scherzo In questa vita sto riempieno di scherzi Ferro per adesso li farò anche a Powa Anzi, ditemi nei commenti quali sono gli scherzi che vorreste vedere anche a Powa Detto questo, oggi facciamo un classico Oggi andiamo a staccargli la connessione mentre gioca Fortnite È un classico, è un classicone Lui, lo facciamo un paio di volte Si scazzerà tantissimo tanto dal mio computer Quindi so perfettamente dove si trova la connessione E non ci sarà nessun tipo di problema Anzi, andiamo un attimo a vedere cosa stiamo facendo Per adesso li stacchiamo Aspettiamo che sia in partita che stia facendo qualcosa di interessante, ok? Signor ferro, com'è? Mi sto usando la posizione, lo sai? Si lo so, lo so Ma, ok, devi fare la partita Si, devo fare la partita E devo testare il nuovo auto Hanno le potenziate, è vero, è vero Sto facendo daily vlog Io sto facendo daily vlog Quindi, niente, volevo sapere tra quanto è pronta la prestazione Perché mi servirebbe anche me Devo fare anche un po' di beautyport Tra quanto è pronta la prestazione Cioè, quanto posso utilizzarla? Allora, se prima potevo anche pensare di non fargli lo scherzo Ora gli farò lo scherzo al 100% Su questo non c'è un minimo di dubbio Ma intanto, prima di andare, visto che non è ancora in partita È difficile parlare e camminare, giù Visto che non è ancora in partita, ciao Lori Voglio dire dove sono Loll e Conti Loll e Conti Voi stavo a cercare? Allora, stavo facendo un giro Ho appena vloggato perché ho fatto vedere la Villa Conti La macchina La macchina tua che non l'avevo vista Non mi hai mai visto la mia macchina? Bella, mi ha regalato lo sai Eh beh, no, no Quindi, cioè, ci tieni alla macchina Eh beh, sì, no, ho fatto Vabbè, comunque, io so che cosa devo fare oggi No, no, teniamo comunque la pistola d'acqua Guarda, guarda Fagli vedere, fagli vedere la pistola d'acqua più forte del mondo No, no, no Spara Vai, 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 spara, spara Guarda che figa Comunque Ferro, è di sopra che stai rivistando la mia postazione È passato Valentino Rossi poi Dicevo, fai ora sopra la mia postazione E oggi voglio staccare la connessione Mentre è giusta Unica cosa, no, per favore Non la staccare da tutti No, stacca da lui Eh, ci avete creduto, eh Non ti usciva il video, vero? No, non esco il video Eh no, non ti devi, non ti devi girare anche tu Vieni qua, fermo qua Guarda su Bellissimo Guarda su Bellissimo Sono le inquadrate più endometri, ragazzi E infatti puoi buttarti in piscina se vuoi Ragazzi, vado a vedere se Ferro in partita Gli stacco la rete Bisogna un attimo scappare perché giustamente Posso prima farmi un'auto Bella, bella potenza E poi penseremo a pushare le persone Ok, stiamo tornando su nella mia camera Vediamo un po' a che punto sta Ferro Cioè già qua possiamo scoprire le persone Ora lo testeremo Però è finito? Eh? Hai finito? Riccato, no Ah, sei ricca adesso? Eh no, beh, pensavo di essere finito Ho capito, la mia postazione mi serve Eh, capito, mi hai detto di te che posso registrare Non è che me la sono presa Ah, mamma, mamma Scusa, 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 scusa Scusa C'è vamo ragazzi, allora Ok, fermi Neumatico di proiettile Sistemiamo la macchina qua Prendiamo una benza in più E signori, teoricamente Potranno essere non messi bene Ma di più Allora, adesso vi aspetto E con gli scudi, raga Per forza Più che per forza, raga Senza gli scudi Non possiamo letteralmente Fare assolutamente nulla Allora Piano Che cazzo succede? Che cazzo succede, raga? Efe Oei Ehi qua? Ero in bagno Stai spendo la wifi Cazzo che dici Stai spendo la wifi No, però aspetta Che stiamo caricando anche le clip Powa Hai staccato la wifi? No, stavo caricando le clip Sta caricando ancora? No, mi sa che si è bevato No, no, sta caricando Sta caricando No, no, c'è, c'è, c'è C'è, c'è, c'è Mi ha buttato fuori forte Scusami, fai così Aspetta, fammi avviare Stai fermo un attimo? No, bro, prende benissimo, guarda No, però, bro No, però mi chicca, te lo dico No, non ti chicca, bro Ma però, però, dai, farò C'è No, serio Eh, bro Spidiamo, cioè Mi serve la postazione Mi serve la postazione Eh, ma ne sono già passate i 15 Bro, è fatto da solo, eh Vabbò, vabbò, vabbò Eh, fai l'ultima partita massimo Cioè, a prescindere da come ti viene Eh, se la monta è la tua Te lo giuro, però, sei fastidio Ah, io ho capito Eh, bro, eh, cosa devo fare? Spiegamelo Eh, ha quitato da solo, eh Va bene Guardate la rec dopo Va bene Signori, siamo nella postazione Di ref, stiamo per andare in partita Perché dobbiamo provare le nuove auto Ragazzi, lo faccio Ragazzi, lo faccio Non sono giovane Non ho già più capelli È troppo alto Dimmi i mani Se ti metti in mutande Non lo faccio Lascia, io ti prendo Se ti metti in mutande Non lo faccio Non si vedono Stavo cadendo Ok, non lo faccio più Il momento più awkward Della storia di YouTube Italia Probabilmente Ma è per questo, ragazzi Voi dovete iscrivervi al canale Lasciare un bel like In segnale nel negozio C'è il codice REFE Per supportare il massimo supporto Mi raccomando, ragazzi Dobbiamo arrivare a 10.000 supporto A un creatore E voglio sapere nei commenti Cosa ne pensate di questa villa Ma adesso Mentre Ferro cerca l'altra partita Andiamo a distaccare l'altra È super difficile Non farsi sentire da Ferro, ragazzi Perché Come ve lo posso spiegare fondamentalmente È difficile Arrivare lì e staccare E non farsi vedere Devo puntare tutto sul fatto Che lui sia super concentrato A giocare la sua partita E in una tale Che lui non mi veda Ok, questo è il discorso Siamo in partita, ragazzi Tra l'altro vi ricordo Che ho i comandi di REFE Quindi sarà abbastanza Più complesso giocare Allora, obiettivo Direttamente andiamo al 20 gennaio Bisogna prendere un'auto Ultrapotenziarla E basta Sarà che non c'è da far troppo Dobbiamo solamente Riuscire a provare Le nuove auto E demolire gli amici Cioè l'attversario Allora Aspetto Cosa che vi picco REFE C'ha i rumori Utili Secondo me bruttissimi Forse sono molto Molto utili Ma bruttissimi Super Mi metto un attimo Magari mi sente bene Aspetto un attimo Che scende Ok Sto facendo la macchina Sto facendo la macchina Già ribaltati Ok Raga Io puscio A me Se me lo permette Io puscio subito Voglio far subito Una chillozza Con le auto Per capire se effettivamente Le hanno depotenzato Oppure no Aspettiamo Ok Fai Sto facendo la persona Eccolo C'è un player Un player Gli vado subito in contro Rega lo mangio Rega lo mangio Fermi 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 Ok Porca trota Abbiamo spaccato tutto Ma siamo quasi morti No 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 ragazzi ancora No ragazzi ancora No ragazzi Bro Quasi è finito il vlog Ok io ho capito Il secondo Tu sei Guarda 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 Cosa Guarda Ancora Bro ma parco due Fra Ah colpa mia Non è che è colpa tua Però porca miseria Cioè Posso dire una cosa È strana questa cosa Ma Si è entrato Si è entrato te due volte Su due Qua è attaccata bene Si è entrato due volte su due E si è interrotta Ah Ah Non lo so Non lo so La tua postazione Sì come stai facendo qualcosa No stai facendo qualcosa E non recono mai Eh fai l'ultima Prova l'ultima Bro Mi dispiace lasciarti senza No Mi dispiace Mi dispiace lasciarti senza video Fai l'ultimo tentativo Però bro l'ultimo Aspetta Dai bro Fai l'ultimo Fai l'ultimo Dai Cioè Adesso vedo bene Mi serve la postazione Non posso lasciarti senza video Mi sentirei veramente uno schifo Ok Non è che sei tu Pova a fare qualcosa Ma che io Io sto caricando le clip Chiud voi da me Io fossi in te Starei attento a Pova Potrebbe farli infame Potrebbe farli infame No sono serio Pova Pova Sincero Pova sincero Non Non Cioè Sta recando Ma è un po' le clip Di un c***o C'è sentito Io gioco un contirollo Non so Si è entrato due volte su due Esattamente quando mi sei giocato Ma pensa te Ma pensa te Che sfiga Eh no Ti guardi così Subito da subito Perché Subito da una colpa a me no Cioè Sei scarso Muori Fai schifo Ti ammazzano Ti chicano Colpa mia Ah ok Mi ammazzano Venite Venite Ma siamo andati a fare La tua postazione Ma siamo andati a fare la tua postazione Ma pensa a te Questi qua La faccio domani Ma pensa a te Questi qua Che cosa non fanno Questo era per Capitan Blazer Avere un po' di Romagnolo Ci sta sempre bene Mi sto staccando la connessione Mi sto staccando la connessione Mi sto staccando la connessione Ma di là mi distraio un po' E io gli stacco la connessione Di nuovo Ok Ok Andata Ti do un segnale Il mio segnale è che arrivo qua Ti faccio Ok Ragazzi Con un complice È tutto sempre più semplice Certo questa qua è una stanza di ferro Ah Facciamo cosa Ah Ma è molto più comodo del mio bro Ma è super più comodo del mio Ma stai scherzando Ma che dico come è tornato Ma è super più comodo del mio soggetto Mi sa che mi vengo qua Adesso aspetto solamente un attimo Che lui inizia a reccare Perché effettivamente andare adesso a staccargliela Non avrebbe senso Devo staccargliela quando sta in un fight Trove del genere Così poi lo voglio distrarre E io lo frego Ok Ti stai reccando eh Vabbè editor L'intro tieni quella di prima Sta reccando Sta reccando Perfetto 3 2 1 2 minutini ragazzi 2 minutini si va E si va Intanto ci guardiamo le tigri della stanza di ferro Super belle Siamo in partita signori Quindi obiettivo Trovare e fare l'auto più forte in assoluto Con questo depotenziamento di Ford E che in realtà dobbiamo verificare se sia vero oppure no Siamo letteralmente nel nitrodomo Nitrodromo scusate Boh È il momento Ragazzi Un momento Siamo signor ferro Come andiamo qua? Male E se puoi amare La macchina Bro La macchina Ma tu lo sai che questa qua Se tu vai al nitrodromo La puoi potenziare di un sacco Io sono andato Bro Bro che scarso Ah no che è grasciato Si Si è grasciato Come si dice di diversa Eh attaccati meglio con la rete no? Bro che cazzo vuol dire Attaccati meglio con la rete Non lo so Non prende Eh bro Sul mio telefono prende Sul mio telefono prende Cioè Refè Vino dallo specchio Eh provo a guardare tipo il computer sotto Non vedi che c'era la staccata? E non c'è il capo? No C'è solo quella Quella è l'antennina delle wifi bro Cioè tu me la stai così a non staccare? Eh perché scusa Non è che vuoi fare il video della mia postazione E io non posso fare niente della mia postazione Scusa eh Sei una m***a Ma adesso Sei peggio della m***a Lo stavo registrando Eh bro vabbè Registrai quando c'è la tua postazione Ma che pezzo di schifo Bro ringraziami anche Ma ringraziami cosa? Ma aspettati di peggio Ma aspetterò di peggio? Ma tu ricorda che in questa video dei boys Tutto ciò che hai fatto Ritornerà In karma qua Gira il doppio Effettivamente Io ne ho fatte tante a ferro L'ho buttato in piscina Appena sveglio L'ho buttato in telefono in piscina Hai fatto che ti rilanciarmelo Ti ho fatto questo Mi hai fatto andare a me a riprendere la cover Che mi avevi lanciato Pensando che fossi il telefono Ne ho fatte tante Io non voglio star lì a attaccarti Prenderti alto Ti ricordo solo che abbiamo i guantoni da box Tu dormi letteralmente nella camera Vicino alla mia E soprattutto Che io c'ho la chiave E te no Questo è vero Quindi dormi sereno Dormi sereno stanotte Sereno Dori Ma intanto la possiamo riattaccare la connessione Scusami Ah ok Quindi non registri più Ragazzi non vedrete mai più un video Sto canale di ferro Intanto vi mi raccomando Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Codice RF Nello shop Giusto ferro? Guarda Ragazzi Iscrivetevi al canale Acrivetevi al canale L'ho